L'Almanacco della Fede Di Padre Livio Vorrei, cari amici, fare alcune riflessioni. Quindi su un tema molto importante che è quello della coscienza, la coscienza morale, che è un tema fondamentale perché è in base alla coscienza morale, cari amici, che viene diretta, viene guidata la nostra vita. E quindi è una realtà molto personale che tutti noi vediamo dentro il cuore e che deve e merita di essere approfondita nella luce della fede perché è un tesoro prezioso che ha l'uomo. Che non hanno, per esempio, gli altri esseri viventi perché attraverso la coscienza Dio parla a noi. Infatti la definizione più semplice della coscienza è proprio questa, la coscienza quando è retta, ovviamente, è la voce di Dio in noi. E quindi è quel rapporto diretto che c'è fra Dio e ogni persona ed è per quello che la Madonna ha detto che uno dei messaggi della Regia della Pace ha detto che ogni uomo che raggiunge ovviamente l'età della ragione ha la possibilità di distinguere il bene dal male e anche la possibilità di arrivare alla conoscenza di Dio e quindi di dirigere la propria vita secondo, ovviamente, la volontà di Dio. Certo, cari amici, poi ci sono già delle riflessioni da fare perché poi sappiamo che nell'uomo ci sono anche le potenze del male che cercano di deviare, di oscurare. E poi noi dobbiamo scegliere se privilegiare la voce della coscienza o la voce delle passioni, quindi il discorso è molto complesso, ma non c'è dubbio che alla fine ognuno di noi avrà una responsabilità morale per cui dovrà rispondere a Dio di come avrà guidato la propria vita. Allora, questo va detto che è proprio dell'anima umana, che è un antoroma di fede e l'esistenza dell'anima umana, quindi l'esistenza di questo soffio divino che Dio ha immesso nell'uomo. Come già nella Genesi è ben espresso questa concezione dell'uomo, cioè che l'uomo ha una componente materiale che è il suo corpo, per cui nella Sacra Scrittura si dice che prese, che l'uomo, che Dio prese del fango e soffiò in esso il suo spirito, cioè qualcosa che è suo, che è di Dio, che non è dalla terra, che è di Dio. Questo soffio, si chiama soffio, si chiama quello che volete voi, soffio perché dà la vita, è l'anima spirituale immortale che ha impresso in sé la coscienza, questo è un mistero la coscienza perché da una parte la coscienza è nostra, cioè è una parte di noi stessi, è un sigillo, è comunque una, chiamiamola un sigillo divino che è stato impresso nell'anima umana, per cui è un sigillo divino che ha impresso la legge morale dentro di noi, come si dice i comandamenti, per così dire, no? Dio ce l'ha battito in due versioni, quella interiore attraverso la voce della coscienza o la sinderesi, come si dice, la sinderesi è quella voce della coscienza che è impressa, è come un sigillo della volontà di Dio e quindi che contiene in sé tutti i comandamenti divini, poi ovviamente è nella sua complessità la coscienza è quella voce che si fa sentire e che ci approva, che ci indica il bene da fare e che ci approva quando lo facciamo e che ci rimorde quando facciamo il male e ci esorta a lasciare la via del male, quindi è questa realtà che è solo nell'essere umano, cioè noi amiamo molto in chiave evoluzionista mostrare l'evoluzione della materia, è tutta una cosa sulle cui basi scientifiche ci sono molti dubbi, perché di evoluzioni noi nella natura non ne vediamo, non ce ne sono, dicono che ci sono state e perché non ci sono più adesso, quindi non voglio toccare questo argomento, ma il passaggio, il passaggio per così dire dall'animale o dall'animalità all'umanità è un abisso, è un abisso insuperabile, è una delle ragioni per cui diciamo che l'uomo non è irriducibile a un animale, è proprio dovuto ovviamente al suo intelletto che è capace di ragionamenti immateriali che vanno oltre la materia per cui si può passare come si dice giustamente nelle vie che dimostrano l'esistenza di Dio, si può passare dalle caricature al creatore, cioè delle cose materiali e quelle immateriali, quindi certamente c'è la luce dell'intelletto che è diversa da quella dell'animale che è legata alla materia, ma supera la materia e così c'è la libera volontà che è diversa da quella dell'animale che invece obbedisce all'istinto e quindi c'è la responsabilità morale nell'uomo che non cede gli animali, tu non puoi mettere, non puoi fare un processo, puoi mettere in prigione per totale un leone perché si è mangiato ciò che non doveva mangiare, magari un bambino, come spesso fanno gli animali e allora questo salto che c'è fra la materia organizzata, la materia vivente che sono gli animali e l'uomo è dovuto proprio alla sua anima spirituale immortale, di cui la coscienza, cioè il sigillo morale è distintivo dell'uomo perché in base a quello l'uomo è capace di distinguere il bene dal male ed è capace di scegliere fra il bene e il male, quindi questo è il tesoro prezioso che Dio ci ha messo, è impresso in noi e che noi possiamo ascoltare e possiamo ancora non ascoltare, se l'ascoltiamo siamo approvati, se non l'ascoltiamo siamo come dire torturati, abbiamo crisi di coscienza e in base diciamo alla coscienza verremo anche giudicati perché ovviamente è in base alla coscienza che Dio giudica il grado di responsabilità che noi abbiamo e che abbiamo avuto nel corso della nostra vita nel fare determinate scelte, ecco perché cari amici alla fine anche chi non è cristiano, chi non ha avuto la grazia di essere stato educato dalla fede è per questo cari amici che viene giudicato e tutti gli uomini vengono giudicati, tutte le persone che hanno raggiunto l'uso di ragione e quindi che con il loro intelletto sono capaci di percepire la voce di Dio che è in noi e di seguirla e di non seguirla, poi ovviamente qui bisogna fare una riflessione che faremo che in molte cose non è facile sapere qual è la voce di Dio, la volontà di Dio, quindi la importanza della formazione della coscienza. Dio quindi misura le responsabilità di ognuno ovviamente e molti che non hanno avuto una buona formazione verrà chiesto poco, chi l'ha avuto la buona formazione a noi verrà chiesto tanto in base a come avremmo obbedito la voce della coscienza che in alcuni era meno formata, in altri era meglio formata. Quindi cari amici come vedete come vedete questo tentativo della modernità di ridurre l'uomo un animale e poi ridurre una macchina, è una forzatura che degrada la natura umana, la impoverisce e per così dire la responsabilizza e ne fa quel caos nel quale siamo entrati ormai irriducibile, ormai ingovernabile, è il caos di chi ormai ha abolito Dio e la legge morale, quindi siamo in balia delle passioni, in balia dell'odio, in balia della bramosia, in balia dello spirito di potenza, del peggio del peggio. Cari amici, allora questo è anche uno dei temi della coscienza che sono stati trattati in un modo molto elevato dal catechismo della Chiesa Cattolica e nella riflessione di questa mattina vorrei fermarmi ai primi due punti che ci dicono una cosa con poche parole ma profondissime e ci aiutano a scoprire questo tesoro che portiamo dentro di noi e col quale Dio ci parla, cioè Dio ci parla attraverso la coscienza e tutte le volte che noi cerchiamo qual è la volontà di Dio nel far questo o quella cosa, noi dobbiamo ascoltare la voce della coscienza e ascoltarla fino in fondo finché la coscienza nel giudicare se questa cosa va fatta o non va fatta, nel giudicare se è bene o se è male, finché la coscienza non è in pace, finché ci rimordo un po' dobbiamo approfondire, cercare di non ingannare noi stessi, cercare di sintonizzarci, sintonizzarci con che cosa? Con la volontà di Dio che si esprime attraverso la voce della coscienza che poi ovviamente va formata attraverso la parola di Dio, attraverso la riflessione, attraverso l'insegnamento della Chiesa, a volte, molte volte attraverso il consiglio di persone sagge, di sacerdoti che sono dei pastori e che sanno guidare le anime, insomma, è tutto un lavorio per cui noi alla fine camminiamo ascoltando Dio istante per istante dalla nostra giornata e dalla nostra vita. Allora vediamo il numero 1776 del Catechismo della Chiesa Cattolica, un numero straordinario che vi accenno, poi ovviamente bisogna approfondire queste tematiche che non si possono esaurire in un solo appuntamento. Allora qui viene citato un passaggio del concilio Vaticano II, nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, cioè noi scopriamo in quelle profondità di noi stessi nelle quali la Madonna ci ha invitato i giorni scorsi a entrare, a entrare per aver cura di noi stessi. E in queste profondità l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ovviamente si tratta di legge morale, ma alla quale invece deve obbedire, perché si impone la voce della coscienza, la voce di Dio con due comandi, fai il bene, evitai il male. Quindi alla quale invece deve obbedire è la cui voce, che lo chiama sempre ad amare e a fare il bene e a fuggire il male quando occorre, chiaramente questa voce parla all'orecchia del cuore. Pensate, cari amici, che possibilità noi abbiamo di ascoltare, di percepire e di far nostra la volontà di Dio. Ovviamente è un cammino questo di affinamento di noi stessi, in modo tale che la nostra reecchia e spirituali percepiscano attraverso il discernimento la voce di Dio. L'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al suo cuore, sono i dieci comandamenti che si chiama sinderesi, questo sigillo divino sono i comandamenti che Dio ha scritto nel nostro cuore, quindi dice il catechismo, l'uomo in realtà ha una legge scritta da Dio dentro al suo cuore, la coscienza è il nucleo più segreto, è il sacrario dell'uomo, cioè il sacrario di che è il tempio, un taberlacolo, che il parale ha riservato per sé, ha detto la Madonna una volta, vi ricordate? È il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, ha tu per tu con Dio e il rapporto a Dio, ascoltandolo o non ascoltandolo, decidendo per lui o chiudendo, sbattendo la porta in faccia, tu decide il tuo destino eterno. L'uomo in realtà è una legge scritta da Dio dentro al suo cuore, la coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria. Cari amici, e questa coscienza ce l'hanno tutti, anche chi non crede in Dio, anche gli atei. Poi, cari amici, più noi tendiamo l'orecchio con la buona volontà e più la percepiamo, più invece cerchiamo di rimuoverla e di seppellirla, poi pian piano la coscienza indebolisce la sua voce fino a quasi scomparire e allora noi, anche nel gergo comune, si dice gente senza coscienza, dalla quale puoi aspettare di qualsiasi cosa. Cari amici, oggi mi fermerei qui, perché questo è una tematica ovviamente che approfondiremo, che è molto importante dal punto di vista dell'osservanza della legge morale e dal nostro comunale con Dio e quindi vi do appuntamento alle prossime puntate che ci saranno molto utili per, come dire, per fare quello che la Madonna ha detto di fare, cioè entrate nell'intimo di voi stessi e vedete a che punto siete davanti a Dio. È quello che vogliamo fare attraverso queste catechesi che faremo sulla voce della coscienza. L'almanacco della fede Di Padre Livio L'almanacco della fede